Il vento proveniente dal nord, con raffiche che alla misurazione che noi a oggi conosciamo arrivavano intorno a 150 km orari, ha incontrato la scogliera della penna. Quindi si è innalzato, alla cima della scogliera si è riversato nell'impluvio sottostante come se fosse una grossa massa d'acqua, come uno tsunami di vento. E' grande la ferita inferta dal vento, dal maltempo della scorsa notte tra il 4 e il 5 marzo alla foresta della Verna. Una foresta monumentale, qui ci troviamo a poche centinaia di metri dal santuario della Verna. Uno squarcio, un danno simile, lo si ricorda soltanto lontano nel tempo fino agli anni 40 e tra l'altro alcuni sentieri da adesso in poi non saranno nemmeno praticabili. Ed è lo stesso Framarco, vicario del santuario della Verna, ad appellarsi proprio ai pellegrini, non lasciateci da soli. All'interno sicuramente è bene non inoltrarsi. Il santuario è visitabile perché comunque grazie a Dio la struttura del santuario non ha subito danni, almeno particolari. Quindi anzi, da una parte c'è anche l'invito ai pellegrini a venirci a trovare. E forse anche questo è un modo per darci una mano, venire a trovarci, non lasciarci da soli. Perché poi ho notato questi giorni veramente quanto la Verna è amata da tutti. In tutto sei gli ettari di foresta monumentale è andati distrutti. Si tornerà alla normalità non prima dell'estate e la foresta adesso dovrà essere reimpiantata. E da questo punto di vista sicuramente punteremo su giovani piantine autoctone. Quindi si andrà proprio a ricercare quello che è il genoma originario. Questa zona era già stata oggetto negli anni 40 di una tromba d'aria, a seguito della quale venne fatto un rimboschimento utilizzando però piantine non provenienti dall'area delle foreste casentinesi. Speriamo che il ripristino che ci apprestiamo a fare vada in una direzione diversa e quindi naturalmente più apprezzabile. C'è già stata una interrogazione da parte di Marco Donati, verrà il ministro? Sì, ci stiamo impegnando per portarlo qui e credo che abbia già dato la sua... Si sta interessando anche lui per dare la sua disponibilità ma noi siamo fiduciosi che verrà. E questo sarà un'occasione proprio per vedere un attimino anche insieme a lui il da farsi sia a tutti i livelli. Questa è un'area monumentale quindi anche il ministro Franceschini potrebbe... Infatti ci interesseremo anche col ministro Franceschini soprattutto anche perché riguarda anche il suo ministero.